Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Telestense di venerdì 21 giugno. Siamo temi diversi in questa edizione del nostro TV giornale a partire dalla nuova giunta che è stata presentata dal sindaco di Ferrara, Alan Fabri, nove assessori di cui quattro donne. Vedremo insomma come sono state ripartite le deleghe anche in vista del primo consiglio comunale che si terrà la prossima settimana proprio nell'area Gadda come era stato promesso in campagna elettorale. Poi parleremo del mercatone 1 perché i sindacati chiedono delle misure straordinarie per i lavoratori, i sindacati che hanno incontrato già le prime amministrazioni comunali partendo da Ferrara e Comacchio. Poi proseguiranno negli incontri appunto sulla provincia. Andremo anche a Lago Santo o meglio vedremo qual è l'iniziativa che coinvolgerà i ragazzi dai 10 ai 13 anni a Lago Santo per sensibilizzarli alla protezione civile. E poi parleremo anche della RAN 5.30 perché questa mattina Ferrara, è proprio il caso di dirlo, si è svegliata di corsa. Allora apriamo con la politica quindi perché è stata presentata oggi in Sala Razzi a Palazzo Municipale la giunta di Alan Fabri, nove assessori di cui quattro donne come dicevamo, cui competerà la guida dell'amministrazione Estense per i prossimi cinque anni. Le nomine poi saranno formalizzate dal voto del Consiglio Comunale che si terrà giovedì 27 giugno alle 19 ai piedi del Grattacielo. Vediamo. Una giunta nata, come è stato lineato il mio eletto sindaco Alan Fabri, da un perfetto equilibrio fra le forze politiche di centro-destra e che tiene conto di competenze, attitudini e naturalmente dei voti e dei consensi ricevuti dai cittadini. Così dei nove assessori che la compongono, tre sono della Lega, compreso il vice sindaco Nicola Lodi, due di Forza Italia, due di Ferrara Cambia, uno di Fratelli d'Italia e uno di Ferrara Civica. Affiancheranno il sindaco e ne supporteranno il programma di mandato che dovrà uscire dai prossimi incontri di giunta. Quattro le deleghe inedite, agricoltura, lavoro, monumenti storici e civiltà terrarese, tutela degli animali. Deleghe che per la prima volta appaiono al centro delle politiche dell'amministrazione Estense. Quattro le donne inassessorati di primo piano. Cristina Coletta alle politiche sociali, abitative, servizi demografici e stato civile. Micol Guerini alle politiche giovanili, palio, cooperazione internazionale e servizi informatici. Dorota Kuziak, cittadina italiana di origine straniera, alla pubblica istruzione e formazione. Per le opportunità Angela Travagli al personale, al lavoro e attività produttive, al patrimonio, alle fiere e mercati. La nuova giunta di centro-destra, presentata alla stampa della città questa mattina dal sindaco Lantravi Municipio, si propone come una giunta giovane, con cinque componenti al loro primo impegno da amministratore. È una giunta in cui quello che salta subito agli occhi è la rivisitazione delle deleghe rispetto alle precedenti giunte di centro-sinistra, con abbinamenti del tutto nuovi. Da sottolineare che il sindaco ha tenuto per sé la delega all'agricoltura e alla sanità, assieme ad affari generali, legali, relazioni istituzionali e comunicazioni, e che al vice sindaco, il più votato fra i candidati della Lega, Nicola Lodi, vanno le deleghe alla sicurezza, alla protezione civile, alle frazioni. È il nuovo nome della delega al decentramento e alla mobilità. Poi, in ordine alfabetico, da Alessandro Balboni e di Fratelli d'Italia, vanno i rapporti con l'Università di Ferrara, l'ambiente e la tutela degli animali, progetti europei. A Matteo Fornasini di Forza Italia, il bilancio e la contabilità, le partecipazioni, il commercio e il turismo. A Marco Gulinelli, Forza Italia, Rinascimento, vanno la cultura, i musei, i monumenti storici della civiltà ferrarese e l'UNESCO. Ad Andrea Maggi, lo sport, insieme ai lavori pubblici, all'urbanistica, all'edilizia e alla rigenerazione urbana. Nell'arco di un mese, il sindaco provvederà ad adottarsi di uno staff di addetti alla comunicazione di un portavoce, persona di sua fiducia, accanto ad un direttore generale e ad un capo di gabinetto, da selezionare mediante appositi bandi. La giunta sarà sottoposta al voto del Consiglio giovedì prossimo, nella prima seduta del nuovo Consiglio, che si terrà come promesso nella saletta Epidelegata Cielo. Prima seduta di giunta, invece, il 2 luglio prossimo. E il nuovo sindaco di Ferrara, come abbiamo detto, ha tenuto per sé sia la nuova delega all'agricoltura, sia la delega alla sanità. Allora, sentiamo il perché in questa intervista. Sindaco, la presentazione della giunta ha sottolineato alcune cose. Lei si tiene nell'agricoltura e la sanità, che sono due deleghe importantissime. Perché questa scelta? Beh, al netto delle altre deleghe, quindi degli affari istituzionali e della comunicazione, che ovviamente credo che sia il sindaco che deve coordinarle, ho fatto questa scelta perché in campagna elettorale mi sono speso molto su questi due temi. La sanità, uno, perché ovviamente abbiamo un ruolo importante come città per quello che riguarda anche l'assetto provinciale e su cui voglio trovare un dialogo. E al tempo stesso voglio portare dei servizi all'interno dell'ex Sant'Anna, quindi in centro, per dare la possibilità anche ai cittadini di non doversi spostare per quello che riguarda le visite specialistiche, che è un punto di primo intervento, senza dover andare a Cona e per snellire ovviamente anche il lavoro di Cona, che rimane l'ospedale di riferimento, e quindi delocalizzare alcuni servizi per garantire anche specialmente alle persone più anziane, più bisognose, la possibilità di usufruire di questi servizi. Per quello che riguarda l'agricoltura, Ferrara e Provincia sono un territorio prettamente agricolo, abbiamo molte aziende importanti dislocate sul comune di Ferrara e credo che anche la promozione per quello che riguarda le nostre eccellenze, le cosiddette perle della provincia estense, debbano essere un volano anche per quello che riguarda il turismo. E poi c'è la civiltà ferrarese, che è sicuramente la delega più originale che lei potesse inventarsi. Sì, abbiamo utilizzato questa terminologia, civiltà ferrarese, per sottolineare quanto la storia locale sia importante, quando parlo di storia locale intendo tutti i periodi storici, per poterla anche insegnare meglio ai bimbi e ai ragazzi attraverso una sinergia tra il comune e le scuole, un'identità importante che spazia oltre che nell'ambito storico anche nell'ambito artistico, culturale. Credo che i maggiori promoter del turismo in giro per il mondo possano essere i ferraresi, in un momento in cui conoscono bene e al meglio, io compreso, tutto quello che è storia, cultura e arte della nostra bellissima città. Ultima domanda. Istruzione, pubblica istruzione, pari opportunità insieme ad un assessore donna. Ferrara e le donne in questa amministrazione, coniughiamole insieme al lavoro e insieme anche alla sanità di cui lei ha detto si vuole occupare personalmente. Ecco, c'è un'attenzione particolare al mondo femminile che lei vuole riservare nella sua legislatura? Beh, intanto abbiamo inserito quattro donne, quattro donne preparate, giovani e con voglia di fare e che mi danno molta forza e molto entusiasmo anche per portare avanti questa amministrazione. Credo che anche le deleghe che sono state assegnate come il lavoro alla dottoressa Travagli o la Cujac, che è il primo assessore, credo, di origini straniere all'interno del comune di Ferrara possa fare un buon lavoro anche per quello che riguarda le pari opportunità e ovviamente anche per quello che riguarda il lavoro femminile. La nostra provincia, rispetto a altre realtà comunque dell'Emilia Romagna, soffre e noi vogliamo cercare anche da questo punto di vista invece di portare Ferrara a dei livelli più alti. La prima parte dell'intervista rilasciata da Alan Fabri a Telestense, oggi subito dopo la presentazione della Giunta un'intervista in cui il Sindaco appunto tocca diversi temi che andrà in onda integralmente subito dopo il nostro TV giornale alle ore 20 ma che potrete anche trovare sul nostro sito telestense.it Cronaca Igor, cronaca giudiziaria Igor non si è mai pentito, è stato fedele a se stesso ed ha rivendicato con orgoglio di essere pagato per tacere a dirlo il giudice per udienza preliminare nella sentenza che condanna Allergastolo, Igor, il russo la lucida, fredda, spietata geometria criminale di Igor non deve lasciare sbavature nella fase esecutiva o evocare rivisitazioni critiche che possano suonare come autentico pentimento o come inizio di una revisione critica sottolinea il giudice in perfetta coerenza con la propria visione del mondo Norbert Ferra non ha inteso fornire alcun autonomo contributo alla ricostruzione dei fatti continua il giudice rivendicando con compiaciuto orgoglio di essere pagato per tacere continua il GUP nel motivare la mancata concessione nelle attenuanti generiche al serbo ricorderete accusato di due omicidi e di altri reati attualmente detenuto in Spagna per triplice assassino il giudice osserva ancora che la confessione peraltro non completa si riduce a una semplice contabilizzazione sequenziale e refrettaria ogni profilo di autocritica quasi come fosse inserita in un fluire deterministico oggettivamente non associa ad alcuna prospettiva di mitigazione della pena che peraltro, conclude il GUP, Fer non sembra nemmeno attendersi Ora parliamo del mercatone 1 i sindacati incontrano alcuni sindaci della provincia estense partendo da Ferrara e Comacchio per chiedere interventi urgenti a sostegno del reddito dei lavoratori che non percepiscono lo stipendio dalla chiusura dei negozi Attivare da subito interventi di sostegno sociale come gli aiuti per gli affitti, le utenze, l'atari e le rette scolastiche che sono in capo ai singoli comuni per le famiglie dei lavoratori del mercatone 1 è una delle richieste che le organizzazioni sindacali di categoria di CGL e CISLEUIL hanno avanzato ai sindaci di Ferrara e Comacchio per chiedere interventi immediati un'urgenza che deriva dalla non imminente esigibilità degli ammortizzatori sociali discussi in sede ministeriale appena approvati i dipendenti non percepiscono lo stipendio dalla chiusura dei negozi i comuni per attivare le richieste dei sindacati attendono però la delibera regionale che confermi le iniziative di tipo sociale già lo scorso 6 giugno nel tavolo istituzionale di crisi era emersa la volontà e l'impegno delle istituzioni locali e della regione Emilia-Romagna per ricercare soluzioni di aiuto a sostegno del reddito attraverso interventi sul welfare sociale la giunta uscente di italiani aveva implementato i fondi con proprie risorse per il sostegno all'amorosità incolpevole dei lavoratori che ora si trovano in grave condizioni di precarietà economica l'attuale giunta fabbri si è messa a disposizione per integrare con altri fondi la delibera ma verrà anche redatto un documento in maniera concordata allo scopo di evidenziare i reali bisogni dei lavoratori per poi definire la sfera di applicazione degli interventi amministrativi la preoccupazione si registra anche sul futuro incerto dell'azienda e sul perdurare della chiusura dei negozi nonostante il passaggio degli stessi da Sherman all'amministrazione straordinaria rispetto alla quale, concludono i sindacati, non si evince una prospettiva positiva a breve termine Parliamo di aziende invece in buona salute parliamo di un'azienda dei trasporti che a Ferrara compie 30 anni di attività stiamo parlando della Valle che ha celebrato questa ricorrenza in un incontro pubblico che ha tenuto questa mattina nella propria sede di Via Marconi festeggia 30 anni di attività l'azienda di trasporti La Valle fondata dal cavaliere Giuseppe La Valle oggi gestirla è la figlia Mimma che con tutto lo staff della ditta ha organizzato un incontro pubblico presso la sede di Via Marconi dove ne ha ripercorso le vicende e i traguardi raggiunti nell'89 avevamo tre autobus e tre autisti e eravamo specializzati nel settore del turismo e delle linee interregionali Alla presenza di istituzioni e protagonisti dell'imprenditoria locale Mimma La Valle assieme al direttore generale Paolo Pastorello ha sottolineato i punti di forza dell'azienda Il mercato, il mercato degli autobus, del trasporto persone è un mercato sempre molto difficile è un mercato che noi come azienda crediamo molto nel cliente quindi ci adattiamo molto a quelle che sono le esigenze dei nostri clienti di noi ogni viaggio viene costruito proprio sulle loro richieste credo che questo sia stato proprio uno dei motivi vincenti mettere il cliente al primo posto L'azienda La Valle si basa da sempre su qualità e sicurezza Noi andiamo molto sulla qualità sulla qualità e la sicurezza dell'autobus infatti se lei vede oggi qui da noi in piazzale abbiamo in mostra sicuramente i top degli autobus autobus con i maggiori comfort ma anche con i maggiori sistemi di sicurezza io credo che il cliente che sa viaggiare impara la differenza tra un autobus e un altro ecco perché noi siamo riusciti negli anni ad arrivare ai nostri traguardi Un pizzico d'orgoglio per l'imprenditrice di origine calabrese trasferitasi ormai da lungo tempo a Ferrara è il rapporto non solo con la propria famiglia ma anche con tutti i collaboratori che operano ogni giorno Diciamo che la tradizione viene dalla mia famiglia noi siamo una famiglia di autotrasportatori di persone tutti in famiglia facciamo questo lavoro e spero che anche nel futuro qualche mio figlio possa continuare in azienda Per me la famiglia non è però soltanto la mia famiglia di origine per me la mia famiglia sono anche tutti i nostri collaboratori noi viviamo tutti i giorni con loro e anche in questa occasione dei 30 anni vedrà che sono tutti qua presenti la maggioranza e che anche loro ormai si sentono molto partecipe della nostra azienda cioè noi questa è proprio la nostra comunità noi siamo la nostra famiglia Dai trasporti all'agricoltura perché arriva un nuovo incentivo da parte della regione Emilia-Romagna per lo sviluppo di nuove aziende agricole guidate da giovani L'obiettivo è quello di accelerare il cambio generazionale di titolari d'azienda Vediamo Sono pronti oltre 24 milioni di euro per i giovani agricoltori per continuare a sostenere il ricambio generazionale nelle campagne Sono le risorse del bando 2019 il quinto nell'ambito del programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 che dà continuità all'intervento della regione per incentivare la nascita e lo sviluppo di aziende agricole condotte da imprenditori alle prime esperienze per accelerare il cambio generazionale dei titolari d'azienda Il nuovo provvedimento segue l'approvazione della graduatoria 2018 del bando riservato ai neoimprenditori che ha consentito l'avvio di 265 nuove imprese guidate da Under 41 con oltre 1.200 nate in regione dal 2015 Le domande possono essere presentate fino al 22 ottobre secondo le modalità stabilite da Agrea Il bando prevede che degli oltre 24 milioni di budget quasi 17 siano destinati a soddisfare le domande di primo insediamento I restanti 7,3 milioni saranno utilizzate per sostenere i piani di sviluppo aziendale con contributi fino al 50% sugli investimenti per la costruzione e ristrutturazione di immobili ad uso produttivo l'acquisto di macchinari e attrezzature gli interventi di miglioramento fondiario Tra le spese ammissibili ma con contributo ridotto al 40% figurano anche gli investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni aziendali comprese quelle per l'allestimento di locali per la vendita diretta e l'implementazione di siti web per l'e-commerce dei prodotti agricoli Nella formazione della graduatoria un punteggio più alto sarà riconosciuto alle imprese che si insediano nelle aree svantaggiate E c'è un'allerta per maltempo di ordinare criticità per la giornata di sabato 22 giugno un'allerta della protezione civile dell'Emilia Romagna che avverte della possibilità di temporali che potrebbero interessare anche la provincia estense costa compresa Nella giornata di sabato pertanto ci sarà la possibilità che si verifichino fenomeni temporaleschi più probabili durante le ore centrali della giornata che saranno però in esaurimento nelle ore serali in quelle notturne in concomitanza con i fenomeni temporaleschi potranno verificarsi anche raffiche di vento di moderata intensità associate a fulmini Promuovere l'informazione nella scuola non solo per spiegare il ruolo operativo in caso di emergenza ma anche come strumento efficace per formare una nuova educazione di protezione civile Stiamo parlando di un progetto nazionale che si chiama di campo scuola che si chiama Anch'io sono la protezione civile organizzato a Lago Santo a partire da domenica 23 giugno 8 giorni dal 23 al 30 giugno per un progetto di campo scuola a cui parteciperanno 34 ragazzi fra i 10 e i 13 anni delle scuole primarie e secondarie è quello allestito dalla protezione civile di Lago Santo per il terzo anno consecutivo che porterà nella provincia estense il progetto nazionale Anch'io sono la protezione civile un'esperienza che passerà dalla teoria con le lezioni al mattino alla pratica con esempi reali cui partecipare li porteremo al boscone della Mesola con i vigili del fuoco e i carabinieri forestali lì avranno modo di imparare come agire in caso di incendio sia incendio boschivo ma avranno anche nozioni su come comportarsi per l'incendio anche domestico poi andremo anche a Comacchio al lido degli estensi esattamente a Logonovo con il gruppo cinofilo Onda Azzurra avranno modo di vedere i cani in azione durante un salvataggio e gli operatori della Comacchio Soccorso che insegneranno loro come fare il primo soccorso andremo quest'anno a Gambulaga con le pompe idrauliche carrelli e tutto con tutti i mezzi che ci ha dato a disposizione il coordinamento faremo fare un'argine ai ragazzi con i sacchi la sabbia e tutto e lì impareranno come si gestisce un'emergenza idrica e sapranno anche come comportarsi per mettersi al sicuro e insegnare anche poi alla cittadinanza che cosa deve fare in caso di emergenza di questo tipo noi già tre anni che appoggiamo queste iniziative è un'iniziativa che nasce dal Dipartimento su tutto il territorio nazionale qui da noi l'hanno sviluppata negli anni Lago Santo e Vigarano quindi sono due associazioni che ci sono interessate molto a questo è un altro fattore importante di resilienza territoriale quindi i bambini imparano imparano in fretta e poi sono coltivati anche dai genitori che poi portano a casa queste esperienze per insegnarle un aneddoto che è successo la settimana scorsa è stato quando c'è stato l'incendio a Lago Santo di un capannone sono andata sul posto c'erano due dei ragazzi del mio campo dell'anno scorso ma che verranno anche quest'anno e mi hanno detto Donatella abbiamo chiamato noi i vigili del fuoco e poi abbiamo detto chi abita vicino di chiudersi di barricarsi in casa chiudere ermeticamente tutto per non fare entrare il fumo e di mettere anche un fazzoletto davanti alla bocca per non respirare sostanze tossiche questo io direi che è il più bel regalo che può avere un volontario quando partecipa a queste iniziative Ora parliamo di sport perché l'estate ferrarese è cominciata con la RAN 5.30 sono stati oltre 2.500 i partecipanti questa mattina all'alba all'edizione 2019 di una manifestazione podistica non competitiva che si conferma uno degli eventi sportivi più partecipati della città di Ferrara l'estate ferrarese ha preso il via con un evento ormai consolidato del mese di giugno oltre 2.500 persone hanno partecipato alla RAN 5.30 la manifestazione podistica che da anni fa tappa anche nella città estense e che si avvale di un percorso correndo e passeggiando che da Corso Martiri della Libertà attraversa la parte est della città Corso Giovecca il Sottomura fino al rientro verso il centro storico per concludere con una colazione a base di frutta e tè Alla partenza dell'evento le 5.30 del mattino per un percorso della lunghezza di 5.30 km era presente il sindaco Alan Fabri mentre altri politici tra cui l'ex candidato sindaco Aldo Modonesi hanno partecipato alla competizione la prima RAN 5.30 è stata corsa a Modena nel 2009 con 578 partecipanti oggi il progetto è attivo in 11 città italiane oltre che a Brighton in Inghilterra venerdì prossimo la corsa mattutina si terrà a Mantova sempre con partenza rigorosamente alle 5.30 Allora chiudiamo qua il nostro TV giornale per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il sito internet telestense.it vi ricordo la nostra pagina Facebook e il nostro canale YouTube grazie di essere stati con noi arrivederci arrivederci grazie a tutti Grazie.